E' molto difficile poter far rivivere alle persone, agli ascoltatori, quello che è stato un periodo passato. Mi riferisco al 1945, quando io avevo 18 anni. In quel periodo che cosa è successo? E' successo che ai primi di maggio è finita la guerra e le persone si sono guardate in faccia e ognuno ha fatto un revival del proprio passato, di quello che c'è stato durante la guerra e quello che ci si presentava a guerra finita. Molti avevano lutti familiari perché c'era gente che aveva perso le persone in guerra, come a casa mia dove mio cugino è morto in Russia. Altri erano stati 6-7 anni sotto l'esercito, passati periodi in Albania, periodi in Africa. E quindi è stato un momento che oggi si potrebbe dire di grande relax. Finalmente è finito un tormento. Cosa poteva succedere? Che la gente si domandava anche. Ma a che cosa ha servito tutta questa gente morta? Quelli che sono morti nei bombardamenti nelle città, quelli che sono morti nei lager, quelli che sono morti uccisi al fronte. A che cosa ha servito? Ha servito per liberarci da una dittatura di un verso, dittatura dall'altro. ma uno si pone anche delle domande. Sono venuti proprio per liberarci da Hitler e da Mussolini o sono venuti anche perché c'erano degli interessi economici? Allora voi direte, cosa c'entra tutto questo con quello che vi dirò dopo? C'entra perché quando è finito questo periodo gli uomini si sono guardati in faccia e si sono domandati ma vale la pena ammazzarsi per andare a conquistare altre terre per il denaro? Quando voi pensate che una madre per allevare un bambino ci impiega 7, 8, 10 anni e ancora di più arrivare magari 15, 16 e poi in un attimo uno inventa la guerra e muore. Per cosa? Allora qualcosa è successo? È successo che c'è stato un ripensamento generale, tutti abbiamo ripensato, ma vale la pena fare la guerra alla Germania? E la Germania vale la pena fare la guerra alla Francia? E l'Inghilterra? Perché odiamo l'Inghilterra? E c'è stato un ripensamento generale con una grande voglia di pace. Tre grandi uomini, uno si chiamava Adenauer tedesco, uno Schumann Francia e l'altro De Gasperi Italia. Tutti noi che eravamo giovani ma che venivamo da quel periodo anche noi avevamo voglia di pace. Io facevo parte del partito liberale, partito liberale con Inaudi, con Sforza, con Costa, con Malagodi, tutti uomini di alto spessore intellettuale che oggi purtroppo i partiti sono piuttosto carenti di queste persone. E che cosa si è pensato? Si è pensato a un'Europa unita, ho detto basta ragazzi, è ora definirla, mettiamoci tutti assieme. E qual è stato il sogno, il progetto? Il progetto è stato quello di fare un esercito unico, una polizia unica, un governo unico come gli Stati Uniti d'America. In più c'era un argomento importante che veniva evidenziato, cioè si diceva ma l'America, l'America, chi l'ha fatta? Come è nata l'America? È nata da sola o è nata per le menti europee che sono andate da qua a là? Quello che è successo nel mondo, gli uomini dell'Europa hanno contribuito in maniera determinante o no? Hanno contribuito in maniera determinante, perché tutta l'intelligenza, la maggior parte viene dall'Europa. Al che un'Europa unita sarebbe stata una potenza incredibile. E allora si è incominciato a parlare e poi si è fatto qualche cosa. Due elementi sono stati a mio parere fondamentali. Uno è stato la lingua. Si è incominciato a parlare l'inglese, perché è una lingua facilmente accessibile, è una lingua molto più semplice da imparare e quindi la potevano imparare anche le persone che non avevano una grande cultura, magari straparlandola, ma la parlavano. Ed era diventata poi una lingua dei giovani già allora. Oggi poi l'inglese è predominante, lo vedete anche in tutte le frasi che appaiono sui giornali, l'inglese è una lingua. Quindi la lingua europea poteva essere l'inglese e si è mirato a questo. Ma la cosa importante è stato l'euro. L'euro ci ha resi molto più uniti, se anche così non sembra. E quando sento la televisione, quei personaggi politici che vogliono uscire dall'Europa, che vogliono uscire dell'euro, mi fanno pensare a quanto pezzente ero, ed eravamo, quando giravamo con la lira. Quando giravamo con la lira e io andavo all'estero, se non avevo i traverse che o non avevo dollari, l'era meglio che non muovesse neanche perché le lire noi volevamo neanche vederle. Oggi io viaggio, non frequentemente, ma viaggio quasi tutti gli anni. Guardate, sono stati in Egitto, euro. Sono stati a Zanzibarzone, euro, euro. Neanche i dollari, non li vogliono neanche vedere, li vogliono l'euro. Sono stati in Russia, euro. Sono stati in Uzbekistan, euro. Da per Spagna, euro. No, Spagna no, perché c'è l'euro. Quindi in Marocco, in Marocco, l'euro. Sono stati in Tunisia, euro. Allora, come si può pensare di uscire dall'euro? Come si può pensare di tornare alla lira? Mi dà l'impressione di tornare ad essere dei pezzenti. Allora, io dico la verità che possono esserci anche dei desideri di autonomia, ma non possiamo tornare più agli stati separati d'Europa. Perché io credo che la moneta unica e la lingua unica siano già due grandi basi. Ma come ogni cosa nella vita ha bisogno di avere un tempo di adattamento e un tempo di abitudine. Vi dico un particolare. Quando in farmacia mi capitavano delle persone straniere, io immediatamente, parlo di 60 anni fa, dicevo quelli le todesche, quelli le inglese, quelli le francese, si vedeva subito. Si vedeva perché avevano un modo di vestire diverso. Oggi ditemi voi se siete in grado di distinguere dal vestire, dal comportamento, un tedesco. Sono tutti uguali. Perché c'è stato, questo termine non mi piace, ma è così, una globalizzazione. Cioè c'è stato un appiattimento, chiamatelo appiattimento, un'uguaglianza, un modo di sentire che è un sentire europeo. C'è poco da dire. Quindi l'Europa, se non è entrata di fatto, perlomeno a mio parere, è entrata già nella mentalità delle persone. E nonostante questi momenti di crisi per le persone che vengono dall'estero, per gli immigrati, eccetera, io credo che noi l'Europa dobbiamo conservarla, formarla, perché saremo la più grande potenza del mondo. Grazie.